Dopo quasi otto anni e mezzo abbiamo avuto la certezza che questo processo sa da fare. Accanto alle parole dell'avvocato Alessandra Ballerini parlano i volti di Paola e Claudio, genitori di Giulio, che hanno aspettato otto anni perché la loro richiesta di verità venisse finalmente accolta. Siamo ostinatamente presenti anche oggi, si sono limitati a dire all'esterno del Tribunale di Roma, dopo un'udienza in cui sono state rigettate tutte le pregiudiziali poste dalle difese dei 4007 egiziani accusati di aver rapito, torturato e ucciso Giulio. Il processo si terrà quindi e sarà rapido. Il 9 aprile saranno sentiti i primi testimoni, il 24 toccherà i medici legali. È possibile che poi si concluda con una certa celerità, quindi da parte nostra c'è soddisfazione. Il quadro complessivo che è emerso è quello di una ragnatela che tra il settembre 2015 e il gennaio 2016 si è stretta attorno a Regeni da parte degli imputati, che si sarebbero erroneamente convinti che il ragazzo di Fiumicello, ex studente del Petrarca di Trieste, fosse una spia inglese mandata per fornire finanziamenti ai sindacati vicini ai fratelli musulmani. Così il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, che nel suo intervento in aula ha illustrato come siano dieci gli elementi probatori decisivi a carico degli 007 egiziani, a partire dai video della fermata della metro del Cairo, dove Giulio venne prelevato, a cui mancano proprio i dieci minuti in cui fu preso, fino a tutti i tentativi di depistaggio. Nessun commento sulla Premier Meloni, ieri in visita in Egitto. Nel nostro paese fortunatamente c'è la separazione dei poteri, non come nei regimi, ha sottolineato la legale della famiglia Regeni. Ringraziamenti invece al popolo giallo, che non ha mai fatto mancare il suo sostegno. Grazie agli sforzi di tutti, compreso i vostri, perché siete stati fondamentali, sia tecnicamente ma anche affettivamente. Avervi qua tutte le volte che entriamo è veramente di grande supporto.